A Tierra Nuova ritornano le elezioni d'arte. Nella sala del Consiglio Comunale, questa volta è protagonista Michelangelo, agli uffizi dentro e fuori. Il professor Natali affronterà le problematiche relative a due grandi opere di Michelangelo, il David e il Tondodoni. Per quanto riguarda il continuo delle elezioni d'arte, sarà poi seguito in maggio da Rosso e Pontormo, per cui credo che siano momenti importanti di approfondimento culturale per quanto riguarda la storia dell'arte e per quanto riguarda la reale sociale e cultura.